Ben tremissive e una sola risposta, peraltro informale, nella giornata di ieri. Troppo poco per far stare tranquilla il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, fortemente preoccupata per le gravi ripercussioni sulla viabilità a seguito del crollo di una parete della Galleria San Silvestro dello scorso 22 novembre e le relative chiusure e sequestro dell'intero tratto. Il provvedimento di sequestro comunque autorizza l'ANAS a eseguire i lavori di ripristino della viabilità e hanno già cominciato a smantellare le pareti e a fare le opere preparatorie in attesa di avere un progetto esecutivo, definitivo, che possa essere sottoposto, immagino, anche al vaglio della Procura. Sono notizie informali che non conosco perfettamente, anche queste vorrei conoscere anche sui tempi. Certo, resta fermo, la priorità è sempre quella della sicurezza del transito per i cittadini. Veramente abbiamo scampato una tragedia per pura fortuna, quindi questo fenomeno non si dovrà mai più verificare. Nella giornata di ieri dunque un colloquio informale con i vertici ANAS che hanno rassicurato per quanto possibile la Russo. C'è una relazione costante con il Ministero delle Infrastrutture e una volta concluso il lavoro di smantellamento e preparazione si procederà con l'approvazione del progetto esecutivo e relativo inizio dei lavori. Ma l'estate è dietro l'angolo, il flusso veicolare sarà triplicato e il rischio di un collasso è concreto. Da qui, in attesa di tempistiche certe, le proposte alternative per affronteggiare l'emergenza. Credo che sia ragionevole che le istituzioni si sedano intorno a un tavolo e ragionino appunto in termini di misure alternative che possono essere quelle del pedaggio gratuito autostradale così come quello di agevolazione del trasporto pubblico locale. Anche magari prevedendo, non so, la butto lì, un biglietto unico per il biglietto della tua e quello del treno, potrebbe essere che da una criticità, che è quella della chiusura della strada, possa nascere l'opportunità di abituare il cittadino a utilizzare il treno. Abbiamo ben 28-29 corse che vanno da Francavilla a Pescara e a Ritorno. Molta parte della popolazione potrebbe utilizzarle. Certo, non tutti, perché molti vanno a lavorare fuori, non solo nella zona del centro, però potremmo in questo modo sdergliere il traffico. Ebbene, mi aspetto delle risposte perché le mie richieste sono richieste fatte da un sindaco per conto di tutti i cittadini.